Voglio acquistare dei giochi a prezzi bassissimi? Passo nel link in descrizione. Beh, per cos'è infinito? Qua. Non trova più l'altra sedia. Questa è la sedia The Conjuring. Scenario più o meno quello. La sedia, la sedia, la sedia più piccola, quella più piccola, quella più piccola. No, allora ti manca una... una sbarra, quella, eh. Quell'altro. Niente? Oh, porco Giuda. Una volta è colori, una volta è benga nero. Ma tu pensa... Cioè... Che il lavoro ci deve stare dietro a un gioco così? Eh sì. Eccomi, però senza audio. Ah, perché probabilmente non sta ascendendo quello che succede. è la cucina? È la cucina? Sì. Aspetta. Oh, devo vedere in che parte andare, allora. Allora? Non andrò alla cucina. Io posso zoom in Andrei. Ciao. Dall'altra parte. Ecco. Bravo. Chiudi. Vattana, affanderla. È tre quarti da... Tu, è tre quarti dalla palazzina tua. È tornato tizio pelato. Sai che cosa succederà qui, sì? Non mi ricordo. Io me lo ricordo. Tanto tocca a te mica a me. Quel cacchio, eh? Tanto tocca a te mica a me. Do sta... Che cosa? Quel cacchio del... Ti ricordi che suonava sempre il telefono? Che lo dovevo cercare? Mamma mia. Ma sei sicura? Sì. Ma perché tu senti il telefono suonare? Sì. Io no. Senti? No. Piano sul microfono. Mosi. Non può stare là. Non può stare là. Scooby dooby doo, where are you? Aspetta. Ok. Accendi. Ok. Forse è che devi chiudere quella. La devi chiudere e poi la devi riaprire più volte, mo. Dici? Eh... Se no, altri posti... Mettiti nel punto in cui... No, stai... Amore. Se stai da una parte, non puoi farlo. Vedi la stanza si è cambiata? Aspetta. Che forse ci serve un oggetto più in particolare. Alcuni dipinti sfuggono alle semplici parole. Figuriamoci alle critiche. Beh, dipindi che faici tu. Conoscenza di base... Una conoscenza di base del soggetto è d'obbligo se si vuole anche solo provare a domarli. Viso di un bambino che è uno di questi dipinti. Questa anomalia artistica attira decine di migliaia di fan della mediocrità e appassionati a tempo perso. In realtà sembrerebbe il risultato del lavoro di un pittore non del tutto a posto. No. Ma va? Rinchiuso in uno scantinato buio a dipingere senza paura per una settimana. Lasciando da parte l'esecuzione terribile, il dipinto eccelle in un modo sinistro. Ma non l'avrei mai detto. Apri quello sotto. L'hai visto? Va bene. E sta roba? E' la stessa che c'era venuta la volta con il gramofono. Si chiamiamo, si chiamiamo. Vabbè con quel coso. 363. Aspetta, non lo scrivo. Provo usci dalla stanza. Prova a toccare i vasi. Questi qua. 363. Monè, avvicinati a questi. Sti scaffali, non troppo vicino. Eh. Hai tirato fuori quel libro? Hai visto? E' devi comporre il numero 363. Parla. Parla. Sì. Non sa proprio come se c'è. Ma hai mai avuto un telefono del genere a casa? Sì. Ecco. Ah, è vero! Oddio, che trip sta sta... Devi saltare adesso. Fa tipo un parkour, mi pare. O comunque ti ritrovi sopra in qualche modo, vero? Madò... Che trip! E trip! E trip! Non lo ricordo. Secondo te devo riaprire sti cosi? Non lo so, proviamoci. Comunque se quello è il quadro di un bambino io sono... Non lo so. La porta. Se quello è un quadro di un bambino io sono... Mi chiamo Giosualdo. Così. Ah, sapevo. C'è di nuovo il telefono poi, vè? Sì. Ecco qua. Di nuovo quel numero? Premi. 3, 6, 3. 6. 3. Dobbiamo trovare il numero. Cambiato? Non lo so può darsi. Non lo so. Sono morto? Non lo so. Probabile che tu dovevi cadere. Non me lo ricordo. Io mi ricordo che era più lunga la cosa. Allora hai barriviato il percorso? No. Siamo tornati in questa stanza. Allora tira la cosa. Apri la porta. Qua al libro. Oh. Eh, non lo faceva spostare. Fa vedere se il numero è sempre quello. Fa vedere se il numero è sempre quello. Fa vedere se il numero è cambiato. No. No. Che magari il prossimo numero sta scritto lì. Eh. No. Non c'è scritto più. Qua ci hai visto già non c'era niente. Fai una cosa. Vedi dall'altra parte. C'era un topo morto. Dall'altra parte. Dove? Qua. Nel cassetto da fianco. Non me lo fa aprire. Perché? Fai vedere. Perché non te lo fa aprire? Però aspetta ci deve essere un qualcosa. No. Un po'. Se il problema è che ci servono. Un altro numero. O se il problema è che. No. Il problema. È che questo prima non c'era. Forse era proprio così. Donda. Oh. Vai a giocare. Sai. Entra un attimo il telefono. Fammi riprovare col numero. Solo quello ti chiede. Non ho visto scritto tipo qua per qua. No. Allora proviamo con. Tre. Sei. Tre. Aspetta. Prova a fare una cosa. Prova a tornare indietro. Piano. Senza cadere. No. 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 Andare oltre. Sono accati di sotto. Da che ha ricominciato tutto da capo. come Kaiser. No. Però sono altre cifre. scritte dove. O qualche parte per forza. Aspetta. Aspetta. Ehm. Un attimo. No. No. Fai un attimo. Forco schifo. Dove era scritto. Vai vai. Ferma. andate un po' più avanti andate un po' aggiusto un pelo eccolo 8,5,3 8,5,3 vai no no ma perchè ti vado impedita dai fai il 3 ti vado impedita con ste cose girati vista 8,5,3 oh oh è molto che girati se vabbè è muo a casa la stanza non cadere oh ma che trip però chiudi la porta no lo sbaglio è sempre più in pendenza bello è vero l'entrano a la stanza è vero Grazie a tutti